Da quest'anno Balneario Antonio è plastic free. Abbiamo messo in vendita delle borracce termiche dove eroghiamo acqua liscia e acqua gassata. Questo ha avuto un enorme successo e in questo modo abbiamo eliminato completamente una marea di rifiuti di plastica. Questa iniziativa è stata possibile grazie agli erogatori di Blupura che collabora con noi ormai da diversi anni con la ristorazione. Aver scoperto Blupura per noi è stato un salvavita. Prima dovevamo stoccare l'acqua nei magazzini, poi disporla nei frigoriferi e spesso non c'erano spazi sufficienti e con Blupura abbiamo risolto questo problema in quanto abbiamo l'acqua praticamente erogata in 30 secondi già refrigerata e i clienti apprezzano molto. Abbiamo diminuito tantissimo l'uso della plastica anche perché al mare la plastica dà veramente molti problemi. A noi piace dire che la Blupura è una delle ditte con le quali collaboriamo sicuramente una delle più professionali e a noi piace anche il loro motto con Blupura, less plastic is cool. Il malinario Antonio ha sposato la filosofia di Blupura introducendo tempo fa il Fonte Magna Cobalt, uno dei nostri primi erogatori che grazie all'Air 290, un gas naturale, ha impatto a zero sul riscaldamento globale. Lo stesso erogatore è stato recentemente introdotto anche per uso spiagge, riempiendo le borracce dei bagnanti con acqua di qualità a chilometro zero e ha permesso di rendere il balinario Antonio, grazie anche a Blupura, un locale 100% plastiferi.